Il Sahara non è sempre stato così arido. La datazione con il carbonio 14 rivela che intorno all'8000 a.C. i monsoni estivi dell'Africa tropicale si spostarono a nord, aumentando la piovosità sul deserto e permettendo la formazione di laghi stagionali. Uno di questi laghi era Nabta Playa. Qui, circondati da zone erbose in cui pascolare il bestiame, gruppi di persone potevano ripararsi dal caldo e dai capricci del deserto. Ma la pioggia era imprevedibile e senza la pioggia il lago si prosciugava. Tre giorni senza acqua rappresentavano la differenza tra la vita e la morte. C'era in palio la sopravvivenza e avvenne una cosa straordinaria. Rumol Shield, della Polish Academy of Sciences, uno dei capi della spedizione, ha scoperto un minuscolo cerchio di pietre. Uno Stonehenge in miniatura, ma di 2000 anni più antico. Crede che possa essere stato usato per predire l'arrivo della stagione delle piogge. Il modesto mucchio di pietre che vedete qui è in realtà uno dei più antichi calendari mai scoperti. Questo era formato da un anello di pietra e da altre due pietre, allineamenti di pietre verticali che io chiamo cancelli. Potete vederli qui e lì. Uno degli allineamenti punta esattamente a nord. L'altro invece, che potete vedere qui e che è rivolto in questa direzione, indica la posizione del sole il 21 giugno. È l'inizio dell'estate. È l'inizio della stagione delle piogge in questa zona dell'Africa. Questo cerchio calendario era solo un assaggio di ciò che avrebbero trovato. Nelle vicinanze furono scoperte anche diverse pietre insolite, disposte a cerchio attorno a pozzi profondi. Le pietre, alcune delle quali pesano oltre una tonnellata e mezza, non venivano da Nabta Playa. Erano state portate qui da una cava lontana. Per gli abitanti del deserto, trasportare e dirigere pietre così grandi richiedeva un'incredibile fatica e una grande organizzazione. La domanda è, perché? Fred Wendorf pensa che possano contrassegnare le tombe di persone importanti o onorare i loro spiriti. Forse erano persone così potenti da poter intercedere presso gli dèi e portare la pioggia. Uno degli oggetti più imponenti era in questo pozzo, che forse è l'ultima dimora di un governante o di un condottiero. Inizialmente sembrava un semplice masso, ma quando Wendorf l'esaminò più da vicino, scoprì che era una scultura primitiva. Abbiamo trovato questa grossissima pietra, accuratamente sagomata, in questo buco, circa un metro sopra l'affioramento roccioso a forma di fungo. Potete vedere come sia stata accuratamente lavorata e come abbiano levigato le superfici. Il bordo è affilato, si vede come siano riusciti a regolarne la lunghezza scavando solchi in questa faccia. Servendosi di un cuneo, hanno poi potuto togliere falde di roccia esattamente nei punti desiderati. Questa è una tecnica davvero degna di nota. Potrebbe benissimo essere iniziata qui, la passione egiziana per la lavorazione delle grosse pietre. È anche un importante indicatore del livello sociale, perché sicuramente fu necessario avere potere su un gran numero di persone che lavorassero questa roccia, che la mettessero in posizione, che dessero forma al basamento roccioso al di sotto. E tutto questo per un notevole periodo di tempo. Ciò indica chiaramente che questa persona aveva un rango superiore agli altri. Qui, 7000 anni fa, i primi grezzi monumenti dell'Egitto sorsero dal deserto. Per onorare un recaduto e trasformare il caos in ordine. Ma per la gente di Nabta Playa le cose stavano per cambiare drasticamente. Attorno al 5000 a.C. i monsoni estivi deviarono nuovamente e questa volta verso sud. Le piogge cessarono e le oasi come Nabta Playa si prosciugarono definitivamente. Obbligate ad abbandonare il deserto, quelle genti si diressero ad est, verso il Nilo. Il Nilo è la linfa vitale dell'Egitto. Dalla sorgente in Africa orientale il fiume scorre verso nord per circa 6000 chilometri prima di raggiungere la valle del Nilo in Egitto. Un'oasi lunga circa 1000 chilometri. Per gli ultimi 160 chilometri si allarga in un ampio delta prima di sfociare nel mar Mediterraneo. In tutto il corso della storia egizia il Nilo è stato una benedizione e una maledizione insieme. Una volta all'anno, gonfiato dalle piogge monsoniche dell'Etiopia, il fiume straribava e depositava il limo ricco di sostanze nutrienti. Gli egizi lo chiamano Terra Nera. Senza il Nilo l'Egitto sarebbe sterile. Invece, è una delle regioni più fertili della Terra. Ma in passato, il fiume era imprevedibile come la pioggia nel deserto. Un'inondazione eccessiva poteva distruggere i villaggi. Se era troppo scarsa, c'era carestia. Per sfuggire al caos dell'incertezza, gli egizi inventarono il primo calendario, basato su tre stagioni di quattro mesi ciascuna. è simile al calendario che usiamo oggi. Ma questa volta non era per sorvegliare il cielo. Era per sorvegliare il Nilo. Il periodo in cui il fiume straribava era chiamato inondazione. Il periodo di emersione era quello in cui l'acqua si ritirava e si potevano piantare le messi. Durante il periodo secco, quando il Nilo era al livello più basso, si procedeva al raccolto. Gli egizi scavarono pozzi, costruirono dighe per proteggere i villaggi e svilupparono i rudimenti della geometria per ridefinire ogni anno i limiti delle proprietà. Attorno al 4000 a.C., dopo che le genti di Nabta Playa si furono insediate nella valle del Nilo, iniziarono ad apparire i primi barlumi della civiltà egizia. Ceramiche con bellissime decorazioni. Palette a forma di animale per mescolare i cosmetici. E coltelli di selce, così ben fatti che nessuno li ha mai eguagliati, alcuni con impugnature d'avorio intagliato.